Buon pomeriggio e buon proseguimento di venerdì e buon fine settimana a voi tutti cari amici. Non vi preoccupate, purtroppo sto notando che si fatica davvero a caricare su YouTube video abbastanza corpulenti a livello di dimensioni. Il commento della puntata di settimana scorsa di Friday Night Smackdown arriverà subito però su Facebook, perché è l'unica soluzione purtroppo. Poi vedo se lo passerò anche su YouTube perché diciamo che poi passando da Facebook attraverso il mobile al computer pesa un po' di meno e il discorso può cambiare un po' grazie al Mozilla Firefox. Comunque come dice il logo Totocalcio o meglio schedina, l'angolo della schedina del fine settimana io ho scelto ben quattro partite, la quota che punto ovviamente in maniera fantastica perché i centri di scommessi sono chiusi, due euro. Allora partiamo da oggi, gara della Bielorussia Serie A, Soligosk-Slask, uno parziale, uno finale a due e dieci. Domani 18 aprile sabato, Badebori Sobzodino, uno parziale, uno finale a due e trenta. Sempre domani 18 aprile, Vitebsk-Brest, X parziale, uno finale a quota super a dieci. E domenica 19 aprile, Tajikistan, Istik-Lol contro Katlon, X parziale, uno finale a quattro euro e cinquanta. Quindi ribadendo, puntando due euro, potrei vincere, ovviamente se meno la fantasia, a trentasette e ottanta. Bene, grazie a voi tutti, ci vediamo tra un pochino su Facebook. Alla prossima, ciao!